Sofia e i suoi amici sanno sempre cosa guardare, perché con Team Vision puoi avere il meglio dello streaming, le grandi storie di Disney+, le novità di Netflix, il divertimento di Prime, in un unico pacchetto a soli 6,99€ al mese per i primi tre mesi. In più, con la potenza della fibra fino a 10 giga, è uno spettacolo. Vai su Team.it! Team, la forza delle connessioni.